SILODATO CESÚ CRISTO Cari fratelli e sorelle, oggi questa parabola del Vangelo ci presenta una storia di un banchetto di nozze, ma è molto più di una semplice narrazione. È una lezione spirituale che ci invita a riflettere profondamente sulla nostra relazione con Dio e sulla nostra risposta all'invito divino. Nella parabola Gesù ci parla di un re che organizza un grande banchetto di nozze per suo figlio. Questo re rappresenta Dio Padre, il creatore di tutto ciò che esiste. Suo figlio, il quale si sta per sposare, rappresenta Gesù stesso, il nostro Salvatore e Messia. Il banchetto di nozze è un simbolo del Regno dei Cieli, un luogo di gioia, comunione e beatitudine eterna, preparato da Dio per tutti noi. Ma cosa accade quando il re invia i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze? Stranamente, molti rifiutano l'invito. Alcuni sono occupati con i loro affari, mentre altri maltrattano e uccidono i servi inviati del re. Questa è una rappresentazione delle molte volte in cui Dio ha inviato i profeti e gli apostoli a proclamare la sua parola. Ma molte persone hanno respinto il suo messaggio, persino perseguitando e uccidendo i suoi messaggeri. Tuttavia, la parabola continua con un messaggio di speranza. Il re decide di aprire le porte del banchetto a tutti, sia buoni che cattivi. E coloro che rispondono all'invito sono considerati degni di partecipare al banchetto delle nozze. Questa è una testimonianza della grazia di Dio. Della sua misericordia infinita e del suo desiderio di offrire salvezza a tutti, indipendentemente dai loro peccati passati. Ma c'è un dettaglio finale significativo nella parabola. Quando il re entra per vedere gli ospiti, nota un uomo senza l'abito nuziale appropriato. Questo uomo rappresenta coloro che accettano l'invito di Dio, ma non si preparano adeguatamente per incontrarlo. L'abito nuziale simboleggia la purezza del cuore e la trasformazione interiore, che dovrebbero accompagnare la nostra risposta all'invito divino. Dio ci chiama a essere santi e a vivere secondo i suoi comandamenti. Pertanto, cari fratelli e sorelle, questa parabola ci offre importanti insegnamenti. Il primo, Dio ci invita tutti al suo banchetto di nozze spirituale, al regno dei cieli, indipendentemente dalla nostra storia o passato. Dobbiamo rispondere all'invito di Dio con cuori aperti e pentiti, preparandoci adeguatamente attraverso la conversione e la santità. Non dobbiamo mai dimenticare la grazia e la misericordia di Dio, ma dobbiamo anche riconoscere la sua giustizia e la sua chiamata alla santità. In questo modo, possiamo essere certi di essere degni partecipanti al banchetto delle nozze eterno preparato da Dio per coloro che lo amano e lo servono. Che questa parabola ci ispiri a rispondere con entusiasmo all'invito divino e a camminare sulla strada della santità ogni giorno della nostra vita. Si l'ho dato, Gesù Cristo. Grazie.